sine qua non, non bisogna essere dei costituzionalisti, basta ricorrere al buon senso, eppure questa condizione ovvia non è stata recepita all'interno del testo. A fronte di tutte queste considerazioni Forza Italia chiede il ripristino del testo approvato dalla Camera nella parte che introduce le coalizioni, l'attribuzione del premio a queste e non soltanto alla singola lista, la possibilità di apparentamento delle liste al ballottaggio, lo slittamento dell'entrata in vigore a seguito della definitiva approvazione della riforma costituzionale. Se in passato non è stato possibile scrivere insieme una legge elettorale era anche perché pareva tabù anche agli occhi dell'opinione pubblica che forze contrapposte dialogassero tra loro. Ora, che grazie alla responsabilità di tutti noi attualmente in Parlamento il dialogo fra forze contrapposte non era più considerato tabù, ma anzi una conquista di civiltà democratica e politica, ancora non comprendo perché le forzature debbano prevalere sulle aperture e auspico che tutti possano tornare sui propri passi, che si consenta una discussione seria, e un'apertura a cambiamenti ragionevoli da parte del Governo, conformando il senso dell'Italicum allo spirito iniziale. Grazie. Iscritta a parlare l'onorevole Agostini, Roberta, ne ha facoltà. Presidente, intervengo oggi sulla legge elettorale dopo quanto è accaduto con la sostituzione in prima Commissione, che di fatto ha limitato la possibilità di confronto. Io credo che soprattutto su temi di rango costituzionale i singoli parlamentari possano e debbano esercitare il proprio ruolo con autonomia e responsabilità e che su alcune materie il Governo dovrebbe lasciare spazio alla dialettica parlamentare, spazio essenziale della vita democratica. così come non riesco a rinunciare alla convinzione che le regole che presiedono alla possibilità dei cittadini di scegliere i propri rappresentanti non possano poggiare sulla base di una maggioranza risicata. Il rischio concreto è un provvedimento che divide il Paese, che avrebbe invece bisogno di essere unito e che non centri l'obiettivo per cui le riforme devono essere fatte ed è urgente che siano fatte, ossia sanare la frattura tra politica, istituzioni e popolo che è un aspetto grave della crisi che stiamo vivendo. La legge elettorale che ci arriva dal Senato è migliore di quella che abbiamo licenziato alla Camera, su aspetti che erano stati richiesti da molti parlamentari, da docenti, costituzionalisti, forze sociali. Per me, grazie a una battaglia delle donne forte e trasversale, sono state introdotte alcune regole importanti per il riequilibrio di genere, doppia preferenza e norma antidiscriminatoria sui capilista. Eppure, alcune scelte non condivisibili caratterizzano l'impianto di fondo e che, considerate insieme alle scelte compiute con la riforma costituzionale, provocano una sfasatura negli equilibri tra i poteri dello Stato e sbilanciano il rapporto tra governabilità e rappresentanza. Un ballottaggio concepito come sfida tra i capi dei due principali partiti, che si aggiudicheranno il premio di maggioranza, cambia nei fatti la forma di governo e rende più debole il ruolo del Parlamento. Un premio attribuito a una sola lista vincente rafforzerà la tendenza verso partiti pigliatutto, con un profilo ed un'offerta politica per forza scarsamente definita, tenuti insieme da una leadership carismatica e concepiti sempre di più come partiti personali. Passeremmo dalle coalizioni infedeli ai listoni pigliatutto. Con la combinazione tra preferenze e capolista bloccati, gli eletti con le preferenze saranno la minoranza del Parlamento e solo quelli della lista che vince il premio. È giusto che i partiti scelgano chi candidare ed eleggere, magari partiti diversi, regolati da una legge che non c'è, di attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Ma le regole dovrebbero valere per tutti, allo stesso modo, grandi e piccoli. E non si può dire che le multicandidature siano un parziale rimedio, perché al contrario rendono incerta la conoscibilità del candidato e la possibilità di scelta dell'elettore, consentono al capolista, attraverso l'opzione per un certo collegio, di decidere a chi verrà eletto negli altri, oltre al fatto che in questo modo potrebbe essere possibile girare la norma antidiscriminatoria fissata per i capolista. Queste sono solo alcune delle osservazioni possibili e il tempo non mi consente di approfondire e di argomentare altro. Le riforme, per me, dovrebbero avere l'obiettivo innanzitutto di ristabilire il rapporto di fiducia tra eletti ed elettori, rafforzare il ruolo del Parlamento e, nello stesso tempo, l'esercizio della funzione di governo. Si può fare. Costruire la possibilità dell'alternanza e ridefinire il ruolo dei partiti come soggetti democratici della vita politica. Obiettivi difficili, certo, non tutti perseguibili unicamente per la via delle riforme e delle leggi, che però credo che non siano contenuti nella legge che stiamo approvando e che comunque, certo, le prove di forza o addirittura la minaccia di fiducia non aiutano a raggiungere. Io continuo a credere, Presidente, ho finito, che la politica sia anche faticosa ricerca del consenso e dell'unità e chiedo anche oggi che non si rinunci a percorrere questa strada. Grazie. È scritto a parlare l'onorevole Sanna, ne ha facoltà. Questo Governo considera le riforme istituzionali un punto fondamentale del suo programma. Pertanto intende dare il suo contributo allo stesso processo di riforma del sistema elettorale, assumendo la responsabilità delle necessarie iniziative ai fini del dibattito parlamentare. In tanti tempi, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, i Governi si sono fatti carico, in quanto rappresentanti del continuum tra la maggioranza e l'esecutivo, della necessità di intervenire sulle riforme istituzionali. È la legge elettorale una delle più importanti riforme istituzionali. Anche l'onorevole Massimo D'Alema, nel testo di